che abbiamo una puntata lunga, intensa e piena di novità perché il secondo maschio di questa sera si potrebbe dire che è un bello maschio si dice dalle parti mie, un bell'uomo ma soprattutto è una persona che ha fatto il modello, ha fatto l'attore ma poi alla fine è tornato alla sua vera vocazione Benvenuto al dottor Berruti Come stai? Ciao! Come stai? Ce l'abbiamo fatta? Sì, ce l'abbiamo fatta Devo dire che sei introvabile, sempre in movimento Per fortuna Per fortuna Devo dire che siamo occupati E però devo dirti grazie perché so che tu vai pochissimo in televisione e quindi grazie per essere qui a Ciao Maschio Grazie a te per l'invito ovviamente Resiliente, cocciuto, un po' stronzo Ovviamente l'aggettivo che mi ha incuriosito di più è un po' stronzo No, il primo quantomeno Allora, è un po' stronzo perché sono uno di quelli che Allora, io sono un curioso di natura quindi voglio sempre provare a fare delle cose E spesso e volentieri tendo a non ascoltare magari l'esperienza di persone che ci sono già passate prima Il consiglio di queste persone e quindi ci devo sbattere un po' la testa Quindi voglio fare di testa mia e quindi sono stronzo Ma non è che, cioè, è sincerità o sei eccessivamente autocritico? Ma penso di essere Severo con te stesso Sono sicuramente uno molto severo con me stesso Sono uno molto, forse a volte anche troppo perfezionista Però generalmente ti dico un po' stronzo perché sono uno di quelli che comunque tendono a non ascoltare i consigli degli altri Voglio sempre sbatterci la testa e alle volte mi sono anche fatto male Però my way or the highway Ma questa strontaggine ti ha aiutato o limitato nella vita? Cioè, adesso hai detto, per colpa di questa mia incapacità di ascoltare e di questa caratteristica mi sono fatto anche male Tipo? Ma secondo me, guarda, beh, sul lavoro, nelle relazioni Sicuramente crescendo, cioè, oggi da quasi quarantenne ti dico che l'ascolto è molto importante Qualcuno diceva, abbiamo due orecchie e una bocca Però ci è voluto del tempo per arrivarci a capirlo e soprattutto ad acquisire quella consapevolezza Di rispettare anche magari le persone che prima di te sono passate, hanno fatto un percorso E quindi in realtà fare tutta quella cosa che facevo non serviva, bastava semplicemente chiedere e ascoltare Ancora oggi faccio fatica, ma penso che questo dipenda moltissimo dal rapporto avuto con mio padre Qual? Beh, è un rapporto comunque molto bello, però anche molto complesso, molto, se vogliamo, anche conflittuale Perché comunque mio padre è un po' vecchio stampo, piemontese Con un'idea, anche se vogliamo, di rapporto tra padre e figlio Non paritetico perché è sbagliato, però comunque padre decido io, fino a che dipende da me decido io Quindi anche forse quello, la smania di voler essere Quindi è inciso lui Economicamente autonomo da subito perché era l'unico modo che avevo per dirgli No, vabbè Faccio come mi pare Ma scusa, infatti mi incuriosisce perché tu Sei un po' anarchico, capito? Eh, sei un po' anarchico, ma oggi sei un medico Io rinasco medico in realtà Eh, rinasci Eh, perché poi hai fatto il modello, l'attore Io nasco facendo... Guarda, la storia è molto semplice Io lavoravo presso un carrozziere Io lavavo le macchine dopo la scuola per guadagnare un po' di soldi E per essere autonomo da papà E poter dire a mio padre Lui mi diceva, comando io a casa mia, dipende da me Col cazzo Eh, no, no Però andando avanti A un certo punto ho conosciuto un ragazzo E mi ha portato in questa agenzia di moda E lì ho scoperto che si poteva lavorare lo stesso Guadagnando di più e magari anche viaggiando Quindi era chiaramente una cosa più interessante E ho cominciato E da lì poi ho conosciuto il mio vecchio agente Ho cominciato a fare ovviamente l'attore Un po' di pubblicità Poi ho cominciato ad avere Diciamo così un po' di riscontro In televisione fece lì Sì, successo Perfetto Però avevo sempre un pochettino la necessità L'esigenza di poter essere comunque autonomo Quindi il fatto di dipendere dalla scelta di qualcuno Del provino piuttosto che il casting Mi ricordava sempre un po' alla lontana Questo fatto di delegare a qualcun altro Il controllo sulla mia vita E questa cosa a me Non ti andava giù Mi stava un po' Dice meglio papà a questo punto Almeno mio padre E lui come ha reagito però Perché lui è medico Mio padre è un chirurgo oculista Però in realtà Quando ha saputo che tu Prima andavi a lavorare per essere autonomo E poi A questo punto di vista È sempre stato uno molto Cioè ha sempre supportato Questa mia scelta A un certo punto Però c'è stato un momento In cui io potevo forse veramente fare un click Con la carriera Un salto in avanti Però avevo l'università da finire Mancava un anno E se avessi perso quell'anno Avrei perso i quattro anni fatti E quindi ho detto basta Faccio io una cosa che nessuno si aspetta E quindi alla fine ho deciso di finire il percorso universitario Faccio non anche incazzare più di qualcuno Anche Rai Però Capita Non possiamo piacere a tutti Meglio così comunque Perché appunto nella vita Sai la vita Cioè la vita secondo me È una cosa che ti capita Ed è anche molto come tu reagisci Ma non è sempre gentile Quindi in quel momento era bellissimo Tutto quello che mi stava capitando Però Ho detto E se fra vent'anni magari non è così Faccio E quindi Avere un piano B Cioè come il Titanic Capito Non affonda Non affonda Poi dopo dice affonda Come si fa E tua mamma invece? La figura di tua madre Perché visto che col papà insomma C'era un po' di compito Mia madre Io ho avuto un rapporto bellissimo Però mia madre è comunque figlia di un generale dell'esercito Quindi per quanto Fosse molto complice Poi in realtà rispettava in qualche modo la gerarchia familiare Per cui papà era il capo Lei era il colonnello diciamo E quindi Alla fine io ero il tenentino O il soldatino Però insomma Un rapporto bellissimo Una donna dolcissima Che si è veramente fatta un grandissimo secchio nella vita Per consentirmi comunque di poter fare tutto quello che ho fatto Mio fratello che è un fratello un po' più grande Quindi ho un rapporto comunque bellissimo con lei Ma anche con mio padre Devo dire qua negli anni L'ho molto recuperato Senti devo farti una domanda Perché tanto tu sei sincero Sì ci provo Quanto ti ha aiutato la bellezza Beh vabbè Niente nulla Sicuramente guarda All'inizio come ti ho raccontato Certo non è che fai il modello perché sei simpatico Eh no Manco intelligenza L'attore Non giudichiamo Magari Semplicemente Non devi esprimere una personalità attraverso la voce Cioè attraverso quello che dici Ma piuttosto attraverso come magari ti muovi Da lì ho capito che però mi stava un pochino stretto E quando è capitato il discorso della recitazione Ho cominciato a fare anche un percorso dentro me stesso Per capire tante cose Perché poi in realtà tu attraverso i personaggi E attraverso lo studio che tu fai di un personaggio Comunque scopri anche tante cose di te Tanti limiti Tanti blocchi E questo sicuramente mi ha aiutato moltissimo È chiaro che all'inizio sicuramente non mi hanno scelto Perché ero l'attore più bravo del mondo Anzi assolutamente no Però nel tempo con la fatica Io poi sono un grande cocciuto Mi ci sono messo Eh infatti tu l'hai detto di essere cocciuto Molto sì Alla fine mi sono tolto anche delle soddisfazioni Ho lavorato molto negli Stati Uniti Ho lavorato con persone con le quali mai avrei pensato comunque di lavorare E quindi comunque bene Cioè alla fine Senti tu mi hai detto Oltre ad essere cocciuto e si è capito da tutto quello che hai appena raccontato di te stesso Non volevo essere in tua madre e tuo padre Che sei anche resiliente Ma cosa intendi? Beh guarda la resilienza è un qualcosa che secondo me o c'hai o non c'hai Io soffro di una patologia Che si chiama febbre malgia Che mi ha molto limitato in alcuni momenti della mia vita E ho dovuto imparare a tirare fuori una resilienza che in realtà non sapevo di avere Questa condizione mi ha veramente aiutato a capire anche tante altre cose di me Nel dolore perché poi sono stati 5-6 anni veramente molto complicati La febbre malgia è una patologia di cui oggi si comincia a parlare Perché ne parla Lady Gaga Ne ha parlato Morgan Freeman Ma fino all'altro ieri era Ah sconosciuta le ziologia Spesso quando parlavi con i medici Vedevi che magari Tu dici guardi ho male Facevi le analisi Non avevi nulla E il medico poi guardava l'infermera o l'altro collega Che faceva Come se fosse una cosa che tu immaginavi Adesso negli ultimi 2-3 anni hanno cominciato a capire che in realtà c'è questa condizione Che oltretutto in Italia riguarda più di un milione e mezzo di persone Ti devo fare un'ultima domanda personale Visto che sono 4 anni che sei fidanzato con Marielena Boschi Io ti chiedo un figlio? Un figlio? Allora secondo me il tema è questo Cioè chiedere a una persona se fa un figlio E qui vale a dire sei ingrassata, sei magro Perché comunque esistono tantissime condizioni che una persona vive Che magari possono anche non consentire di avere un figlio Nel tuo caso siamo amici e quindi te lo consento E ci stiamo lavorando da un pochino di tempo Quindi spero come abbiamo già detto tempo fa Che sia l'ultima estate in due L'estate non è ancora arrivata Speriamo che sarete in tre Ti auguro che siate in tre presto